Il Consiglio Comunale di Roma Capitale ha detto no alle Olimpiadi del 2024, ritirando di fatto la candidatura della città. Al termine di una seduta straordinaria dedicata ai giochi, l'Assemblea Capitolina ha approvato la mozione della maggioranza M5S per il no. 30 i voti favorevoli, 12 i contrari e 0 gli astenuti sui 42 presenti in Aula Giulio Cesare. La mozione ha visto la dichiarazione di voto contraria di tutti i gruppi consigliari di opposizione, a favore invece Stefano Fassina, consigliere e capogruppo di sinistra italiana. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è rientrata in Aula per assistere al voto finale, ma non avrebbe espresso la sua preferenza. È stata una seduta con scintille, iniziate con il divieto di interventi esterni in Aula, che ha impedito alla coordinatrice generale del Comitato Roma 2024, la ex schermitrice Diana Bianchedi, di esporre il proprio discorso. Come potete testimoniare voi, né nella conferenza stampa della sindaca, né durante l'audizione in Senato, si è fatto alcun accenno al dossier di candidatura presentato per le Olimpiadi del 2024. Quindi per una questione di rispetto, oggi io avrei chiesto loro di leggerlo e di seguirlo con me. Le critiche del capogruppo della lista Marchini in Campidoglio, Alessandro Onorato. E soprattutto non si può dire no, perché in passato qualcun altro è sbagliato. Ma come non erano loro quelli con gli anticorpi della legalità, che avrebbero permesso che qualunque scelta sia stata fatta all'insegna della legalità e della competenza. Il consigliere di opposizione, Roberto Giacchetti. Il no della città principale della capitale d'Italia ospitante non gli pare vero a Los Angeles, a Parigi e a tutti gli altri di poter dire. Quindi è chiaro che se c'è il no di Roma, abbiamo chiuso. Poi c'è il no di Roma su Limpiadi, arriverà il no di Roma su Limpiadi, arriverà il no di Roma allo stadio della Roma. Nella bagarre generalizzata in Campidoglio, singolare protesta di un gruppo di consiglieri di Fratelli d'Italia, che hanno sventolato alcuni cartelli con la scritta Chi ruba va in galera, chi ha paura a casa. E prima grillini, adesso coniglietti, con l'immagine di alcune carote.